Sì, ho una macchina così intestinata, guarda, guarda, il cielo così, io tiro da qui e fare un sito di mezzo. Andate sopra nel link che sto a fare e andare a vedere gli altri video di questo episodio. So, first episode è episode 1, and welcome to my channel isbrahima kamara. Bye!